Qui Altichiero costruisce la sua città gotica ideale, con guglie, pinnacoli, palazzi, rosoni traforati, terra, c'è perfino un balcone fiorito. Il suo illusionismo prospettico raggiunge vetti altissime. Guardiamo per esempio la scena bellissima dei funerali di Santa Lucia. E lì possiamo veramente dire che siamo con un piede dentro Rinascimento. Grazie a tutti.